Ciao a tutti, oggi abbiamo costruito un bubber, questo è l'originale, ma in caso di emergenza puoi costruire uno come questo, è molto uguale, ma è lavorato, quindi vediamo come possiamo farlo. Ne abbiamo bisogno di un tubo, naturalmente se siete persone che fanno la bubbera a casa potrai avere un tubo quando mettete la bubbera in una bocca o quando muovete da una volta a un'altra, quindi sicuramente avete questo, ma non possiamo rispondere esattamente a questo bubbera, perché quando torniamo il tubo in questo punto, si chiama, quindi l'air non può passare, ma ora vi mostrerò come con questo piccolo can, qualcosa per bloccare il tubo, con il tubo in questo punto, possiamo fare un bubbera. Sicuramente potete noticare che quando avrò il tubo si chiama, si chiama. Quindi ora metteremo qualcosa dentro per rendere il tubo più forte. forte. In questo caso, usaremo un altro tubo piccolo, metteremo due pezzi insieme, e dopo quando torneremo il canto, sarà più stabile, quindi l'air può passare. controllo. I check the dimension of the can, I cut the tube following this dimension. Now, I will put this tube inside this one, and after using the can, we will make a bubber, fixing it with this stick and this line. more than this, I cannot put this tube in this one, so now we will change technique, because I remember you that this is a bubber in case of emergency, so now we should solve the problem, because it's an emergency. So now we put this in this tube, that is a little bit bigger, and surely will fit. And after we close this tube with this one, so in this way, the hole of the fermentator will be not so big. These two pieces we will put to the extremity, and this one we will cut because it's too long. to theで. This is, I'm going to use the whole number of the keys. bottom line, so I'm going to use it as a bubber, and we'll get rid of it. And this one, I'm going to use it on the left, so I'm going to use it all the time. con questo non posso mantenere il tubo al stick quindi ora usare questo che è per l'elettricità e aggiungerò un altro stick naturalmente avendo trovata una cassetta degli attrezzi erano corte quindi ho dovuto utilizzarne due insieme altrimenti non riescono a prendere il tubo lo aggiuntate let's try it I don't know if you notice when here is full of air the bubble go up the balls go up so our bubbles are working so guys see you next time remember to subscribe to the channel and to watch the other video about the beer bye bye